Allora, buon pomeriggio a tutti e bentrovati a questa presentazione che stiamo svolgendo qui in questo momento, lunedì 30 settembre al Centro Studi Sereno Regis, in compagnia di Paolo Barisone e di Igor Buda dell'Associazione di Consumatori Abaco e dell'Unità Sindacale di Base del comparto Sanità, principalmente. Siamo qui perché da oggi, anche presso il Centro Sereno Regis, in collaborazione anche con altre associazioni come Medicina Democratica e altre che si occupano di questioni sanitarie, si proverà a tenere aperto uno sportello dedicato ai temi delle difficoltà, dei bisogni della cittadinanza per l'accesso ai servizi sanitari. È un'iniziativa che abbiamo voluto provare a sviluppare, sia perché riteniamo che ci sia effettivamente un bisogno, cioè una necessità di comprendere e di essere anche un po' accompagnati in percorsi alla ricerca di soluzioni da parte del servizio sanitario a bisogni di diverso genere che si presentano sul nostro territorio. Ma abbiamo piacere di avere qui in questa sede lo sportello Abaco, anche perché è un'occasione che ci permette di allargare un po' lo sguardo sui problemi della salute e della sanità nel nostro territorio. Dirò magari più avanti, come Medicina Democratica, quali sono le iniziative che vengono seguite e quali sono anche le proposte, le visioni che noi proponiamo. Però lascerei inizialmente a Paolo Barisone, che è qui al mio fianco, la parola perché provi un po' a illustrarci quelle che sono le intenzioni di questo sportello e anche l'esperienza pregressa per gli altri due sportelli che Abaco ha già aperto sul nostro territorio. Allora Paolo, questa volta vi do la parola. Grazie al Centro Sereno Regis per averci concesso questo spazio. Io mi presento, sono Paolo Barisone, il responsabile regionale dell'Associazione Consumatori Abaco, che in Piemonte, come negli altri 20 regioni italiani, è presente in diverse province di questa regione con sportelli che per affrontare problemi che quotidianamente mettono in crisi l'esistenza, permettetemi questo termine, dei consumatori e delle famiglie. Naturalmente si parte dal problema sanità, con liste di attesa e strutture sanitarie troppo lunghe, con strutture sanitarie obsolete che spesso e volentieri sono insufficienti per dare risposta alle esigenze di una popolazione che sta invecchiando a vista d'occhio, quindi ha sempre più bisogno di usufruire del sistema sanitario. Adesso vedete sullo schermo alle nostre spalle un sintetico riassunto di come dovrebbero essere gestiti, forniti servizi di visite, di analisi mediche e anche di ricoveri per interventi chirurgici con delle regole e delle tempistiche che spesso non vengono rispettate. Spesso e volentieri questa mancanza di servizi, oltre alle strutture obsolete e al personale mancante, sono frutto di speculazioni sul sistema sanitario che vorrebbero forse portarci come il sistema americano, obbligarci ad andare nelle strutture sanitarie private o fare polizze assicurative sanitarie che poi ti mandano obbligatoriamente ad andare ad arricchire le casse delle strutture sanitarie private. Non è questo che vogliamo, il nostro intento è anche quello di riuscire a far rispettare i diritti in campo sanitario, anche aumentando i costi per l'ASE e dimostrando che forse è più economico far funzionare il servizio pubblico che obbligare gli utenti a rivolgersi alle strutture private. Altri argomenti che saranno oggetto dei nostri sportelli per dare risposte saranno sicuramente quello dei trasporti, dove qui in regione Piemonte siamo alle prese con investimenti notevoli su alte velocità e su linee internazionali di trasporto pubblico, dimenticandosi che spesso ci sono territori dove gli anziani, che sono sempre più numerosi, non riescono a utilizzarli, non avendo autovettura proprio non riescono a spostarsi anche per raggiungere strutture sanitarie e scuole. Quindi quello dei trasporti sarà un altro argomento, ultimo ma non meno importante è quello della liberalizzazione delle forniture di energia elettrica e di gas che adesso con il nuovo sistema di liberalizzazione selvaggia della fornitura di questi servizi vede gli utenti sottoposti a proposte di compagnie o sotto compagnie che spesso e volentieri si rivelano essere delle vere e proprie truffe. Quindi credo che sia sempre più importante cercare di fermare anche questo processo di privatizzazione dei servizi essenziali, quali possono essere luce, gas, acqua, trasporti e quindi sanità. Il nostro sportello qui non mancherò mai di ringraziare questa disponibilità da parte del Sereno Regis affianca altri due sportelli che abbiamo già aperto nel Comune di Torino più uno sportello ad Alessandria e un altro a Novara per cercare di affrontare tutti i temi che magari un territorio vive in maniera diversa da un altro, per esempio stamattina abbiamo avuto un incontro in Assessorato Sanità e uno abbiamo comunque condiviso con il capogabinetto dell'Assessorato abbiamo condiviso la necessità che il sistema sanitario colloqui con il sistema di trasporto pubblico perché è inutile costruire grandi strutture ospedaliere difficilmente raggiungibile da anziani e abitanti delle province del Piemonte. Quindi dalla settimana prossima credo che adesso le prenotazioni saranno fatte per questo sportello telefonicamente o via email, però linea di massima qui al Sereno Regis la disponibilità che dell'apertura e della gestione dello sportello sarà principalmente di lunedì pomeriggio. L'email è molto semplice piemonte.abaco.info Io aggiungo questa considerazione, cioè il fatto che purtroppo partiamo dalla coda, partiamo da quando il bisogno è già conclamato e aiutiamo chi si trova nella condizione di bisogno a rincorrere il servizio per recuperare per quello che è possibile la situazione sanitaria o come diceva prima Paolo, io ho dimenticato di precisarlo, anche per quello che riguarda altri servizi essenziali. In realtà i principi cardine del Servizio Sanitario Nazionale nel nostro Paese prevedevano, anzi prevedono che ci siano due elementi che sono fondamentali nel sistema. Uno è il concetto della partecipazione di utenti e operatori nella costruzione, nella cittadella sanitaria, come si diceva una volta, cioè nella sua struttura, ma anche nella valutazione di ciò che funziona o non funziona, di quali siano le priorità. Non a caso, proprio per questo, è ancora obbligatoria per qualunque operatore sanitario la programmazione che deve essere fatta sulla base dei bisogni reali delle persone. La programmazione è un elemento che deve essere finalizzato a quella che è la funzione del servizio sanitario, non può essere, non può esistere una programmazione di questo servizio funzionalizzata solo agli aspetti economici. E l'altro elemento è quello della prevenzione, e cioè del mettere in campo tutte quelle azioni che sono anche di tipo non direttamente legate all'assistenza al servizio sanitario per eliminare o comunque ridurre le nocività di diverso tipo che abbiamo e che creiamo con il nostro vivere quotidiano. Ecco, questi due elementi sono sicuramente messi da parte e visti come secondari, quando addirittura non come ostili, invece al discorso della privatizzazione e della crescita economica di questo genere di industria, così potremmo chiamarla. Io chiedo a Igor se ha piacere di aggiungere qualche considerazione un po' su tutto questo e anche portandoci però il punto di vista di chi la sanità la vive quotidianamente, la gestisce e in prima linea si trova a dover gestire situazioni molto difficili. Mi allontano io, lascio la parola, lascio la parola a Igor, metto dall'altra parte, così. Allora, grazie, buonasera a tutti quanti. Niente, appunto, che cosa dire della sanità? La sanità purtroppo nel tempo è stata smantellata, dando spazio sempre di più al privato. Come mai ci troviamo in una situazione del genere dove, ad esempio, una persona ha bisogno di una visita in classe B, come c'è scritto dietro? Una visita abbastanza urgente da fare entro dieci giorni e non trova il posto. Chiami l'ASL, diciamo, e non c'è un posto convenzionato con il sistema sanitario. Si chiamano delle strutture, magari, che sono private ma convenzionate, immancabilmente ognuno di voi mi potrà dire sì, io le ho chiamate quando gli chiedo il posto convenzionato col sistema sanitario non c'è mai posto, immancabilmente, mentre invece il giorno dopo c'è il posto privatamente. Perché questo? Io credo che non ci siano poi dei controlli, nel senso che noi diamo a delle strutture private dei posti convenzionati, poi in realtà bisognerebbe anche controllare quanti di questi posti vengono dati effettivamente come servizio sanitario e quanti altri vengono erogati in regime privatistico, diciamo. Volevo dare altri due dati, giusto per capirci sui vari problemi che ci sono a livello sanitario. Abbiamo analizzato anche all'interno della mia azienda, io sono sia RSU che RLS, sono delegato dell'USB e faccio l'infermiere. Analizzando un modello che è un modello SIGMI, che serve per determinare il fabbisogno del personale, il valore ottimale che ci dà è di un infermiere ogni sei pazienti. La media europea parla di un infermiere ogni otto pazienti e la media italiana e di un infermiere ogni dieci pazienti. Questo ovviamente cosa genera? Genera il fatto che il personale è costretto a lavorare molto di più, turni di lavoro più massacranti, è più stanco e non riesce a dare la risposta fondamentalmente alla popolazione. Ultimamente anche sentiamo parlare di aggressioni. Le aggressioni purtroppo non sono una cosa recente, ma è una cosa che purtroppo c'è da parecchio tempo, le aggressioni e per quale motivo anche lì, analizzando magari. Ovviamente non c'è un livello culturale tale da capire che se ci sono delle problematiche non è il caso di usare la violenza. Però anche noi come società non abbiamo investito per niente su questo, nel gestire le emozioni. Una persona ha bisogno di un'assistenza, si reca in ospedale, i tempi sono lunghi, è arrabbiata perché sta aspettando, perché va dal medico di famiglia, perché non trova il posto e in automatico, sembra una cosa quasi scontata o dovuta, devo essere violento nei confronti del personale. La risposta del governo qual è? La risposta del governo è mettiamo l'esercito, mettiamo la polizia. Cioè senza capire che in realtà se noi avessimo probabilmente un sistema sanitario molto più funzionante, ovvero abbiamo creato le case, come diceva prima Paolo, c'è gli infermieri di famiglia che innanzitutto ha bisogno di una formazione e non ne abbiamo a sufficienza. Ci sono le case di prossimità che dovrebbero dare sul territorio una risposta al cittadino. In realtà abbiamo creato delle scatole vuote, ovvero è stata messa una targa su un muro, è stata aperta la casa della salute, ma all'interno non c'è nessuno, quindi io non riesco a dare una risposta al cittadino. Il cittadino si rivolge al pronto soccorso, anche per richieste sicuramente non legate a regime di urgenza, ma perché la trafila diventa troppo lunga e quindi si mette nel percorso del pronto soccorso, intasando in questa maniera il sistema. Un altro dato che possiamo dare è l'inflazione. L'inflazione è attualmente al 15%, l'aumento salariale previsto per il prossimo rinnovo del contratto è intorno al 6%, quindi automaticamente anche il nostro lavoro non è un lavoro attrattivo perché non percepisco uno stipendio adeguato, ho un corso di studi abbastanza impegnativo, quindi universitario, per poi rischiare di essere malmenato o non essere considerato, per quello anche che non si trova il personale sanitario, perché la situazione è quella. Comunque la risposta a questa situazione è un massiccio intervento sulle assunzioni di personale. Io più personale ho, più maggiormente funzioneranno i servizi e in maniera più ottimale riuscirò a dare una risposta alla cittadinanza sulle problematiche di salute, quindi questo farebbe magari anche scendere il tasso di aggressività delle persone, il numero delle aggressioni che vengono commesse ogni anno e non si può risolvere tutto con uno stato di polizia, perché adesso mi sembra anche parlando di questo, le persone sono aggressive in ospedale, metto la polizia o l'esercito, le persone vanno a protestare per rivendicare i propri diritti, metto l'esercito o la polizia. Non è questo il modo di risolvere, perlomeno per quanto ci riguarda come sindacato. Le nostre richieste fondamentalmente sono effettivamente le assunzioni massicce, una richiesta di un reale aumento salariale che dia una risposta effettiva alle persone e quindi in questa maniera anche il lavoratore è incentivato a cercare questo tipo di professione, altrimenti non abbiamo altre grosse soluzioni. Le spese vengono sempre tagliate sulla sanità, sull'istruzione, io penso come persona, come delegato e anche come sindacato, che l'unica spesa effettivamente da tagliare sia quella militare, è quella sulle grandi opere. Invece sono le spese maggiori del nostro paese che continuano a spendere soldi di tutti per cose poco funzionali, voglio dire le armi, parliamo di morte e distruzione, le grandi opere, parliamo di soldi spesi e spesso per opere incompiute o comunque anche poco utili alla società, sarebbe meglio quei soldi stanziarli per quello che serve, quindi ripristinare o dare alloggi, case popolari, edilizia popolare, ristrutturare o comunque aumentare il potenziale sanitario, la scuola e l'istruzione, anche lì abbiamo scuole che cadono a pezzi, però noi dobbiamo dare le armi e spendere i soldi per le armi. Infatti il nostro motto è giù le armi sui salari e con questo io penso di aver chiuso. Grazie. Paolo, cosa vogliamo aggiungere altro? Hai qualcos'altro da aggiungere? Dai, vai pure. Ringrazio le testimonianze, soprattutto questa di Igor, direttamente coinvolto nel sistema sanitario malato che dobbiamo affrontare. Io aggiungo un altro aspetto, noi siamo una regione di Piemonte che ha un passivo di 500 mila euro a noi dovuti al fatto che trasferisce molti pazienti in altre regioni, soprattutto la Lombardia. Siamo una delle dieci regioni italiane che spende di più un trasferimento dei propri cittadini per utilizzare strutture sanitarie di altre regioni. Ora, questo è sicuramente un aspetto che dovremo affrontare e soprattutto in vista delle regole che dovranno purtroppo attuare il piano del disegno di legge, anzi ormai la legge sull'autonomia differenziata non può che preoccuparci in questo momento perché rischia di aumentare il divario tra le regioni ricche e quelle povere aumentando appunto il disagio e la differenza sociale che è inaccettabile in questo momento. altro non saprei dire, io credo che nella nostra associazione anche in quest'ottica con questo obiettivo di fermare questo aumento del disagio sociale sarà e comunque disponibile ad affrontare, ad confrontarsi con tutta la realtà che hanno come scopo primario quello di difendere i servizi sociali pubblici. Quindi a partire dalla sanità, andando ai trasporti, al diritto all'abitare che pur non essendo un diritto costituzionale ci sono molte sentenze della Corte Costituzionale che dice che è addirittura il Trattato internazionale sui diritti dell'uomo che dice che deve essere un servizio garantito e qui siamo in una città, Torino, che è anni che aspetta un piano regolatore, che parli finalmente e faccia un piano di edilizia residenziale soprattutto rivolta ai giovani, alle nuove generazioni che vengono qui per studiare che è assolutamente inesistente in questo momento. Quindi credo che un'attività come la nostra e naturalmente collaborando con associazioni come Sereno Regis e molte altre sensibili ai problemi sociali del territorio sia un benvenuto in questo momento di difficoltà che stiamo vivendo. Grazie a tutti. Allora andiamo verso la chiusura di questa presentazione. Io ringrazio Paolo e ringrazio anche Igor per il loro intervento. Dicevo l'attenzione ai temi sanitari non si esaurisce nemmeno in tutto quello che abbiamo detto perché per esempio non abbiamo fatto cenno ma sappiamo quanto sia importante le questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro. Ecco ci piacerebbe per esempio che così come in questa città vengono proposti nelle scuole corsi sulla cultura della difesa magari affiancare qualche corso sulla sicurezza sul lavoro nelle scuole almeno le secondarie dove i ragazzi sono stati addirittura costretti negli ultimi anni a svolgere attività lavorative durante le loro attività scolastiche ecco forse e sono anche come mi ricorda Igor hanno avuto degli incidenti e sono anche morti purtroppo quindi forse sarebbe stata più utile una lezione fatta sulla sicurezza sul lavoro. A Torino questi temi sono da sempre al centro di un'attenzione non certo mediatica ma sicuramente di chi Torino la abita e la vive diciamo come società civile l'elenco dei problemi e delle vicende che purtroppo correlano Torino con problemi che poi si ripercuotono sulla salute cittadina sono tantissimi l'elenco Torino e il suo territorio è elevatissimo voglio solo ricordare che la settimana scorsa c'è stata la prima l'audienza preliminare del processo Solvay della Solvay di Alessandria a novembre si apre il secondo grado del processo Eternit e qui a Torino abbiamo anche diciamo da qui seguiamo le vicende del processo ambiente svenduto di Taranto che in primo in secondo grado ha visto ribaltare anzi non ribaltare ma cancellare quella che era la sentenza di primo grado con la colpevolezza per quello che riguarda l'inquinamento che il riba di Taranto ha prodotto sulla città e di conseguenza sulla salute di tutta la popolazione tarantina ecco quella sentenza è stata cancellata e in questo momento ci sono grossissimi rischi che poi tutto un 12 anni di attività di attivismo e di udienze vadano perse per il raggiungimento dei limiti di prescrizione dei reati attribuiti ai responsabili dicevo un po' come per quello che riguarda le questioni della pace le questioni della salute dicevo prima si risolvono meglio se non si arriva allo sviluppo della malattia la pace si preserva meglio finché non è sviluppata e determinata la condizione di guerra noi cercheremo anche di mettere in atto quegli strumenti che sono di tipo culturale sociale e come posso dire anche di confronto che servono per le attività di prevenzione grazie grazie a chi sta ascoltando ripetiamo ancora una volta al fondo di questa di questa registrazione per cortesia Paolo l'email che non fa male ripeterla al fondo l'email dove chiedere a info fare prenotazione per questo e gli altri sportelli dell'associazione è molto semplice piemonte.abaco.info e il numero di telefono 339 7436 574 grazie a tutti grazie